benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video andiamo a montare queste lampadine comprate a un euro e trenta dal cinese che sono led nella plastroniera della nostra fiat punto e vi farò vedere come toglierla come vedete queste lampadine sono t10 vanno bene per luci di posizione lettura bagagliaio hanno una luce bianca da 6500 e una potenza a 12 watt andiamo a vedere come togliere la nostra perfoniera anteriore allora ci servirà un cacciavite con cui andremo a fare un po di forza in modo da tirarlo e poi con la mano andiamo a finire il lavoro qui abbiamo i vari collegamenti possiamo andare a staccarli questo qua e questo è il microfono vabbè questo è quello mio aggiuntivo questo sarebbe l'originale per toglierlo schiacciamo le linguette e togliamo la parte grigia sotto scusate andiamo a sfilare la parte grigia visto che andiamo a sfilarla ok va tolto prima il dirietto quel davanti ok si è suicidata e qui andiamo a togliere le nostre lampadine per toglierle andiamo a schiacciare sul gambo dietro ok e poi andiamo a sfilarla o con le mani o con una molletta se non siete delicati come me andiamo a metterle nuove qua le nostre lampadine led andiamo a metterle ok che non fanno il nostro click ok ok andiamo a provarle qui le nostre lampadine montate che fanno il nostro effetto bianco andiamo a mettere i gancini qua dentro e poi a fare il nostro scatto sia davanti da un lato che dall'altro e poi a incastrarla di nuovo qua ecco qua rimontata la plafoniera vedete andiamo accendere la nostra luce adesso veramente spettacolare bianca avete visto questo è tutto se vi è piaciuta questa guida lasciate like e iscrivetevi al mio canale le lampadine a chi interessa io l'ho comprato dal cinese che qua a milano si chiama shun fa l'ho pagato 1 euro e 30